Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video tutorial, io sono Manu, amici e mei oggi siamo qui ritornati con le sfide di Fortnite turista di Isole Ragazzi oggi siamo qui perché Fortnite ha implementato moltissime sfide e danno molte XP ma anche oggetti gratuiti che potete riscattare sul vostro account di gioco Infatti ragazzi oggi andremo a completare la prima sfida che ci richiederà di eliminare avversario oggetto in caccia all'oggetto centro commerciale Il codice lo vedete proprio già tranquillamente nella sezione della sfida La sfida dobbiamo andare proprio in questa mappa ProPunt Modern Mall quindi giochiamo, la trovate anche nella sezione del modifica delle isole Quindi ci catapultiamo dentro e andiamo a vedere questa sfida Ok ragazzi siamo qui all'interno della mappa ProPunt Modern Mall Ok comunque ragazzi siamo qui, la sfida è veramente molto molto semplice perché ci richiederà soltanto di eliminare tre oggetti Ok meno male che esiste il mutuo, comunque ragazzi eccoci qui A parte che lagga un bel po' ma anche perché ci sono molti player Allora ragazzi dobbiamo aspettare un totale di 20 secondi Prima di nasconderci io vi consiglio di mettervi una piccola sedia o qualcosa del genere Anche, neanche nascondervi tra poco Perché dobbiamo partire subito che ci dobbiamo fare trovare Perché ragazzi per completare la sfida al più presto Fatevi eliminare e subito dopo vi, con la vostra pistolina andate a eliminare gli altri avversari E così potete completare la sfida Allora vediamo ragazzi, la completiamo insieme Vediamo, vediamo un po' Allora aspettiamo quanto in cacciatore sono arrivati Ecco dove sta, dove sta, eccolo lì, eccolo lì Salve lei Venga qui per favore Se mi eliminano subito, grazie Perfetto Dopo aver fatto questo ragazzi, subito la pistolina Dovete fare subito 3 kill Andiamo, andiamo da questa parte, veloci Ok, dove sta la gente Ok, ragazzi Quindi dopo aver eliminato i giocatori La sfida sarà completata Ragazzi, veramente molto molto semplice Spero che il video vi sia ritornato utile È stato così, mi raccomando Lasciate un bel pollicione in su E se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Io vi saluto Qui dal vostro umano di quartiere Come al solito è tutto Mi raccomando ragazzi Trovate tutti gli altri video tutorial sul canale Io vi saluto Alla prossima Bella